Intro Bene ragazzi io sono Martex Bentornati su un nuovo video di Fortnite Raga mi sa tanto che ieri a spawn del saccheggio E' cambiata qualcosina ma giusto un po' Anche perchè non mi ricordavo questo effetto Con un tale raggio La cosa si sta estendendo un po' troppo E oddio gli effetti al centro Ragazzi si sta proprio per sgretolare Comunque non voglio passare per quello che Ogni giorno all'inizio del video parla sempre Di questa sfera ma oggi è davvero Esagerata anzi vi consiglio assolutamente Di farvi un giro qui a spawn del saccheggio Per rendervi conto di tale situazione E' davvero impressionante dall'alto si può notare Un po' meglio la lunghezza dei raggi Che furiescono dalla sfera ragazzi E' fantastico comunque spero che ieri pomeriggio Eravate in live insieme a me e non vi siete Persi il secondo teaser di questa nuova Stagione il teaser che ci ha proposto ieri La Epic Games ragazzi è proprio questo Qui guardate un po' questa immagine E' davvero strano vedere che come primo Teaser avevamo magazzino moffito E come secondo teaser diciamo che abbiamo Un super mega punto interrogativo Abbiamo la X al centro Come background e su questo non ci piove ragazzi Si sono 10 al centro abbiamo Un possibile mezzo Possiamo chiamarlo così ragazzi è più probabile Che sia un nuovo mezzo che si potrà utilizzare Nella prossima season anche perchè vorrei Fare una zoomatina sulla parte superiore di questo Perchè a primo impatto potrebbe sembrare Una skin ragazzi ma non può esserlo Se notate bene al centro Della parte superiore si vede chiaramente Che c'è qualcuno che sta pilotando appunto Questo robot sembrerebbe la skin Singolarità ma già la vado ad escludere E tantissimo invece la skin Rocks questa ci assomiglia per davvero Tanto soprattutto l'elmetto che porta L'unica cosa che manca sono quelle due Antennine sulla parte superiore del caschetto Al momento non vi nascondo che non ho idea Di che cosa possa essere questa seconda immagine Che ci ha mostrato la epic Anche perchè ieri ragazzi tra me e me mi son detto Ok oggi la epic va a rilasciare il secondo teaser Sicuramente avremo le idee più chiare Mai avessi detto una frase del genere Ragazzi mi sento più confuso di prima Questo perchè se andate a guardare bene Sia alla sinistra del secondo teaser Ma anche alla destra ci sono due simboli particolari Quello di destra ragazzi Mmm ci arriveremo tra pochissimo Anche se ho vari dubbi su di lui Ma focussiamo la nostra attenzione sul primo simbolo Ragazzi quindi guardate bene l'immagine a sinistra E poi andiamo a guardare la skin del visitatore Ragazzi sia spalla destra che spalla sinistra Hanno entrambe questo simbolo E' ugualissimo ragazzi E' proprio lui E a inizio video che cosa avete sentito? Non avrete mica sentito una vocina Che pronunciava delle parole come Zero point e qualcos'altro? Ma se non sbaglio ragazzi Lo zero point è proprio lui Il punto zero a detta di Donato Mostarda Ragazzi è proprio ciò che stiamo osservando In questo momento Ovvero ciò che ci permetterà di effettuare Un passaggio da season 9 a season 10 E ieri tramite il secondo teaser Che cosa avranno mai messo nell'immagine? Il simbolo del visitatore Personaggio tramite il quale siamo riusciti ad ascoltare Per la prima volta queste frasi Ovvero proprio nel momento del lancio del missile Quindi il punto zero Siamo partiti dal visitatore E tramite quest'orb Quindi tramite questa sfera Che è pur sempre il punto zero Si andrà a terminare il tutto Come il tutto è iniziato Andrà a finire nella stessa maniera L'unica cosa è che non capisco ragazzi Ok che ci sta il punto zero e tutto quello che volete Ma la Epic aveva esplicitamente detto Che tramite questa stagione ragazzi Si andava a concludere tutta la storyline Quindi tutte le season precedenti ragazzi Si andavano a chiudere con questa season Perché adesso in un teaser Quindi nel secondo teaser Mi vado a trovare il logo del visitatore Perché ragazzi? Quindi anche le altre season L'altra nuova storyline Avrà un collegamento con questo personaggio? Sarà una nuova storia Ma il tutto sarà collegato E' questo che ci vuole far capire la Epic? Anche perché ragazzi i simboli sono uguali Non possiamo dire nulla contro E' proprio lui ragazzi E' impossibile dire il contrario Sull'altro simbolo invece Quello di destra Ho svariati dubbi Questo triangolino non so voi Ma a me ragazzi Ricorda tantissimo lei Ovvero ciò che ha sulle spalle Ok è solamente un semplice triangolo Nient'altro Addirittura manca anche il mini proiettile Oppure missile Non lo so come vada interpretato Che si trova appunto al centro del triangolo Però forse non è un puro caso Che la skin che sta pilotando il robot Nel secondo teaser Somigli tantissimo a lei E che questa skin di conseguenza Abbia un bel triangolino Similissimo a questo qui Vi è un po' di confusione Quando escono questi teaser Si fanno un sacco di teorie a riguardo Molto spesso sbagliate ragazzi Però dobbiamo cercare di aprire la mente Il più possibile Mi fate sapere qua sotto Tra i commenti Cosa ne pensate voi Di questo secondo teaser E ovviamente Ciò che pensate Dei due simboli Quindi il simbolo del visitatore E il simbolo che al momento ragazzi È un'incognita Aspetto un pochettino delle vostre teorie Io direi che è ora di passare Allo shop giornaliero Però prima ragazzi Una cosa L'abbiamo azzeccata Ieri nelle notizie C'era magazzino muffito Andiamo qui E la descrizione diceva Ricorda il passato Teaser di oggi Guarda il futuro Domani avremo il presente Lo spero ragazzi Perché deve essere così Intanto ci siamo spoilerati Ovviamente la skin che è all'interno Del negozio oggetti E noi ci andiamo a cliccare Proprio ora Ecco Lo shop di oggi ragazzi Allora Bucky oppure Bucky di Dama Skin da 1200 V-Bucks Ragazzi Se questa qui Avesse avuto un elmetto Avrei subito detto Che era lei la skin A pilotare il robot Che poi raga Ma se ci pensiamo La skin Gemini Quando uscirà Sicuramente la dropperanno Nella season 10 Non è che ritende scherzando Alla fine sia lei Solo che gli mancano Le antennine Comunque La descrizione di questo Dice davvero adorabile Fa parte del set Coniglio da guerra Coniglio da guerra Osserviamo anche Il backpack ragazzi All right Ma che cos'è Un pulcino pio Ma che belle sono queste orecchiette Ragazzi Continuiamo Scendiamo un po' giù Ok Ha delle fantastiche ballerine Che sembrano essere Proprio omologate Per andare a camminare Sugli scogli Al centro dello shop Ragazzi Abbiamo punto di fuga Più i nostri Fantastici clown Sono tornati ragazzi Sulla destra Oggetti giornaliere E' tornato Guandao 800 V-Bucks Non lo vedevo Da un bel posto piccone Infatti non usciva Da 179 giorni Ragazzi Ascoltiamo Carino Carino Not bad E' tornata Sfrigolante L'emot da 800 Che abbiamo visto Per la prima volta All'interno dei 14 giorni D'estate L'amo ragazzi Attenzione Agli hamburger Attenzione ragazzi Abbaio 1200 V-Bucks Ragazzi ma perché Non utilizzo mai Questa skin Perché mi sono Dimenticato anche Di possederla Fantastica 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 Occupato 500 V-Bucks Carina Carina Però raga Vi dico la verità Mi scoccia anche Guardarla Onda di marea Ragazzi Copertura da 700 V-Bucks Scorriamo Scorriamo Sì Ragazzi E' bellissima Bellissimissima No vabbè Verge Skinny da 800 V-Bucks Carina ragazzi Solita skin Sempliciotta Ci sta Raga vi ricordo Che se vi piacciono I contenuti Che vado a caricare Su questo canale Quindi video Live Cetera eccetera Potete supportarmi Gratuitamente Tramite i vostri acquisti Cliccando qui In basso a destra Su supporto a un creatore E digitando Al centro della schermata Il mio codice JacobRMartex Cliccate su accetta E aggiornatelo Ogni 14 giorni Comunque raccogli squik Ragazzi Fantastico Piccone da 1500 Ma raga Li vale tutti Le skin al centro Credo che le conoscete Della prima All'ultima Quindi ragazzi E' inutile Perderci un po' Di tempo sopra Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Noi ci becchiamo tra pochissimi In live Oppure in un prossimo video Un salutone da Martex Ciao brothers Ciao 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 Ciao